guarda attenza subito valida Marcelin e passi da buche più 100 metrista che è alto velocissimo poi Michele Merlini in seconda posizione qui è una buona occasione per una flessa e adesso è Merlini che supera all'interno Michele Merlini con 550 metri dice bravo, una 100 metrista pur un bel talento recentemente sotto l'attenzione anche della nazionale arriva Michele Merlini tempo 48 e 41 potenza valida per Letty, Proverbi, Baglietta, Gumanizza, Dolcetti e Merlini Adrian, Proverbi lo lascia passare e vediamo davanti Adrian Gumanizza e poi Simone Proverbi Adrian Gumanizza anche impegnato come discesista nei primi cinque al mondo deve quest'anno dimostrare qualcosa e i campionati mondiali sta impegnando tantissimo anche nel patinaggio cross Adrian Gumanizza e Simone Proverbi a caccia del tempo per la finale 48 e 4 il tempo della battaglia precedente Carrella di più Adrian rispetto a Simone arrivano insieme arrivano praticamente insieme Gumanizza 48 e 73 48,73 si vediamo più tardi